se volete comprare giochi a bassissimo costo passate nel link in descrizione su istangaming.com ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ragazzi un nuovo episodio delle gare apocalittiche però lo dedicheremo ai wallride perché ci saranno due gare pazzesche soprattutto la prima che si chiama tbl 1550 gradi god of spiral ragazzi è uno spirale della madonna che vedrete poi nella miniatura del video è qualcosa di epico e con noi c'è mastro simux bella a tutti ragazzi se non sei mastro non sei lindo eh infatti è per questo ragazzi abbiamo messo due giri perché sennò poi viene lunghissimo e dopo andremo a fare la seconda gara sperando di riuscirci subito a far questa perché io dico facciamo una gara così poi o è corto oppure ci metto un'ora per fare la prima non so mai quanto ci metto a fare gare quindi raga superiamo i 100 like condividete questo video iscrivetevi al canale e ci becchiamo dentro la partita ok ragazzi si parte ho preso la progen c20 nera grancione e ovviamente ci mancava la cascata di esplosioni ecco e raga si parte sono partito senza razzo perché non ci ho pensato comunque raga due giri oddio è volato uno è volato una persona è volato una persona allora raga andiamo subito verso i voleride voglio sono curioso di vedere com'è sta roba perché c'è oh madonna ah ti ho visto eri tu quello ah raga qua è tutto normale sta la discesa i soliti diciamo checkpoint tranquilli ma adesso secondo me arriveremo a qualcosa di più grave esclareremo come le voglie quando ci sono troppi checkpoint bisogna fare attenzione ecco raga allora 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 non so dove sta la sua spirale non l'ho mai fatta giustamente non provo mai le gare prima perché non ha senso a meno che non siano gare che devo controllare se funzionano tipo quelle in acqua quelle così eccolo che cos'è no spettacolare no raga la prima persona bisogna mettersi no 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 raga bellissimo allora è fatto benissimo perché è troppo preciso come spirale ci mettiamo la prima persona perché io non ci riesco a farlo però quello forse ce l'ha fatta io ce l'ho quasi ce l'ho quasi raga che roba è dai 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 è un container questo no no ma guarda però è un pochino è troppo stretto come un ride e si scivola subito bisogna eh qua ragazzi siamo duriamo due giri quindi no ma è una figata ecco perché c'era scritto 1500 gradi perché tipo no no ma si scivola mannaggia va dai ecco sempre qua esco sempre là me ne vado sempre fuori là non so come devo fare raga è un problema nessuno ce l'ha fatta a meno che non vanno a imbrogliare non so dove sta il checkpoint ah no sta in volo non posso rimbrogliare il checkpoint è in volo in volo non lo riesci a prenderlo no è un casino dopo la prima curva me ne esco subito non vedo niente non vedo niente ma non si capisce niente già raga allora la prima curva diciamo il primo group lo riusciamo a fare nel secondo giro è un macello perché se ne tenisci furi bisogna stabilizzare la macchina di brutto no 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 ecco se ne va qua no raga è un macello dobbiamo riuscirci raga si può fare questo il problema è stabilizzare la macchina stabilizzare la macchina perché è un macello madonna dopo la prima curva me ne esco sempre madonna mia no 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 ecco me ne esco fuori raga si esce fuori per forza se vado a sinistra esco a sinistra vado a destra esco a destra perché c'è poco c'è poco spazio per stabilizzarsi no 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 non ci ero quasi arrivato al secondo no è impossibile dai oh non ci credo ce l'ha fatta non ci credo no no è impossibile raga ce l'ha fatta no 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 ragazzi ragazzi se ce l'hai fatta sono grande no ragazzi no ce l'ho fatta in prima persona simx raga ce l'ho fatta devo andare a fare il secondo giro adesso non ci credo ancora no vabbè no 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 non ho parole raga mi vieni di star zitto cioè non ho parole dopo 20 tentativi sarà qua è tutto normale allora raga io non so come ce l'ho fatta perché tipo prima persona ovviamente perché non si può fare in terza persona quella roba là ho cercato di spostare la macchina il più dentro possibile quando non uscivo fuori e poi non esce più praticamente è solo là il punto brutto il primo giretto del wall ride del loop la che cristo è vai secondo giro giro 2 aspetta che ho sbagliato ah ce l'ho quasi ho capito ho capito ma ce l'ho quasi si può fare si può fare però ci vuole tanto culo tanto dai così ragazzi andiamo a rifare quello spirale di merda perché è un macello mi sa raga che facciamo solo questa gara perché già stiamo da tanto tempo e poi volevo incentrare diciamo solo in questa gara perché è un casino ma minchia raga però questo l'ha fatta difficile l'ha fatta difficile anche se si può fare ma bisogna essere degli sculati di merda poi non ho visto Simus tu ti ricordi se stavano macchine consigliate non ho visto no non c'era niente di consigliato quindi io ho preso la program che comunque è molto sottile ho pensato che si poteva fare con questa vai ci sono ragazzi no non ci credo al primo colpo l'hai fatto al primo colpo ragazzi al primo colpo no vabbè no non parlo più non si vede niente che cristo ok perfetto raga non parlo più l'ho fatto al primo colpo la seconda volta vai a concludere vai a concludere no vabbè incredibile raga vai vai io proprio non sto neanche più parlando perchè proprio non riesco a prendere avanti non ho fatto non ci credo cioè così mi è venuto ho fatto la cosa di prima di andare a destra possibile e mi è uscito al primo colpo ragazzi andando a concludere è una cosa una roba incredibile sta gara qua è assolutamente incredibile sempre di questo tbl questo pazzo che fa sei gare che ha fatto anche la gara dell'lts in acqua che ho fatto ieri praticamente che è praticamente un creatore francese che fa queste cose qui e andiamo a concludere finalmente mamma mia madonna santa è stato una roba impressionante minchia allora raga voglio 100 like per la provagine finale perchè io non me l'aspettavo assolutamente ecco simx che lo stiamo guardando lasciate un commento ditemi cosa ne pensate poi ce l'ho fatta però ci ho messo tipo 20-25 tentativi farò dei tagli ovviamente perchè vi annoiate poi se vi faccio vedere tutto il video un casino commentate condividete questo video sui social network iscrivetevi al canale tantissimi like ragazzi per questa gara incredibile spirale a 1550 gradi perchè ha praticamente due loop in con sé guardate simx simx tu esci dove uscivo sempre io proprio là esco io per questo video è tutto saluta simx alla prossima ecco e ci becchiamo al prossimo video bella e ci becchiamo